Radio Radicale, siamo con Maurizio Lupi, di noi moderati, per parlare della Commissione Covid. Allora, abbiamo visto tutti quello che è successo ieri, lei parlerebbe di squadrismo poi al netto dell'errore che ha commesso la parlamentare che ha parlato di condannati. Allora parlava di condannati idealmente o condannati realmente, riferendosi a Conte e a Speranza. Che cosa è successo e che succederà? Ma il tema è molto sensibile, nel senso che quello che abbiamo passato è stata un'emergenza enorme e bisogna sempre ricordarlo, a sostegno e a ragione di tutti. Nel senso che chiunque si trovava ad affrontare in quel periodo quella situazione, quella lotta contro un nemico sconosciuto, nuotava in mare aperto, non sapeva dove andare. Quindi il punto non è il processo a qualcuno o a qualcosa, ma è quello di approfondire e di chiarire, anche perché la sensibilità su questi temi è enorme. Da parte dei cittadini, dell'opinione pubblica, di coloro che hanno vissuto dei drammi enormi perdendo familiari. E quindi la funzione del Parlamento è esattamente quella, quella di approfondire, di capire quello che è successo, di individuare qualora ce ne fossero delle responsabilità, ma anche di indicare, secondo me, una strada. Una strada per non ripetere eventualmente se ci sono stati degli errori. Io credo che se qualora ci siano stati questi errori, sono stati determinati non dalla volontà politica, ma essenzialmente dal combattere a mani nude nei confronti di questo nemico sconosciuto. Poi ci sono state anche delle esagerazioni, ma le abbiamo sempre combattute in quest'Aula, quindi le commissioni d'inchiesta non sono magistrati che devono condannare ad una pena, sono occasioni di approfondimento fondamentale politico del Paese per conoscere, capire e approfondire. Non sono per squadrismo, condanne, eccetera. I toni ogni tanto si alzano in Parlamento, dobbiamo lavorare in questa commissione d'inchiesta con questo obiettivo. Ha qualcosa da rimproverare a Speranza o a Conte per il fatto che hanno aspettato tanto e poi uno dei due, Speranza, aveva pensato che fosse finito tutto con quel libro che poi ha, diciamo, riproposto con delle modifiche che ha presentato proprio qui a Montecitori? No, quello che io ho da rimproverare sono la battaglia politica che abbiamo fatto in questo Parlamento, il fatto che di fronte appunto a questo nemico sconosciuto a un certo punto ci si è visti costretti a importare un modello che era quello del modello cinese, piuttosto quello che veniva da Paesi distanti da noi, che era quello della limitazione delle libertà. In particolare noi abbiamo detto che chiudere la scuola è stato un gravissimo errore, il distanziamento sociale è stato un gravissimo errore perché ha creato, nello stesso tema del linguaggio, problemi che oggi scontiamo. Però, voglio dire, se mi fossi stato a volte un eccessivo utilizzo, l'abbiamo detto a Conte tante volte, dello strumento... Del DPCM. Esatto, del DPCM e anche dello strumento televisivo, cioè dello strumento di comunicazione, l'invasione di telegiornali. E poi una volta ci fu una polemica perché lui usò questo strumento per attaccare Conte e Salvini. Sì, quindi... No, la Meloni e Salvini. Sì, sì, ma voglio dire, questi sono... Però sono responsabilità di tipo politico, no? Per cui credo che sia assolutamente giusto e corretto approfondire questo contesto per evitare di ripetere quegli errori e anche per evitare di, in una situazione come questa, di ricordare di utilizzare eventualmente situazioni drammatiche come queste per strategie di comunicazione o quant'altro. Per il resto io devo dire che non rimproverò niente a nessuno perché al posto loro non so come mi sarei comportato perché di fronte a un nemico sconosciuto all'inizio si navigava in mare aperto. Dopo, nella seconda fase, c'è più responsabilità perché il ritorno nella seconda fase, secondo me, ci sono stati tanti errori, quelli della scuola, quelli del... I ritardi nella campagna di vaccinazione che poi portò alla caduta di Conte. Esatto, i ritardi nella campagna di vaccinazione. Ricordo anche, su questo bisogna fare anche chiarezza, l'acquisto di vaccini di un certo tipo piuttosto che di un altro, cioè la modalità con cui si rincorreva e non si programmava, il tema della programmazione che è fondamentale, della prevenzione che tra l'altro è un tema di grande attualità oggi, noi non possiamo ritrovarci nelle stesse condizioni di allora. Allora io credo che questo sia il contesto di una legittima commissione di inchiesta parlamentare che sia uno strumento che riporti nelle istituzioni anche sensibilità e tensioni nell'opinione pubblica. Vediamo continui servizi in questi giorni. È il Parlamento il luogo dove si approfondisce. C'è lo squadrismo? No, non c'è squadrismo, non c'è né da una parte né dall'altra. Nel dibattito politico si alzano i toni, ma subito dopo bisogna capire di abbassarli e di avere profondo rispetto dell'altro. Cioè chiunque è qui fa qualsiasi azione pensando e sperando di fare bene, cioè di lavorare alla costruzione del bene comune. Se ci sono errori, sono errori politici, non di altro genere. Grazie come sempre a Maurizio Lume.